Tipico è il caso dell'anitra, le anitre di Central Park, ci sono delle anitre, in Central Park c'è uno stagno, ci sono delle anitre di primavera, d'estate, nuoto, la gente va a vedere, gli dà da mangiare. Holden cos'è che si chiede? Lo chiede a tutti, ai taxisti, alla gente, chiede sempre, scusi lei ha visto le anitre nello stagno di Central Park, sì, le conosce già, presente, sì. Quindi volevo dirle, ma d'inverno, quelle anitre, dove diavolo finiscono? Cioè quando lo stagno diventa ghiacciato e non le si vede più, cioè le vanno a prendere con un pullman, le portano allo zoo, vanno in un pensionato per anitre, cosa ne è di quelle anitre? Ora io non so, tutti voi avrete visto delle anitre in uno stagno, non so se vi siete mai chiesti dove vanno a finire d'inverno, è un po' come chiedersi dove vanno a finire d'estate i caldarostari, che sono quelle domande che non è la cosa prima che ti viene in mente, è la quarta, la quinta, a Holden viene sempre in mente la quarta. In compenso, con quel quarto livello, in quella quarta fila è un genio, cioè là dove i sentimenti diventano piccolissimi, fragilissimi, Holden li inchioda uno a uno.